Ok, benvenuti ragazzi, sono Gesus E io sono Alex Il vlog è normale, non ce lo facciamo fare Però è l'intergrado più o meno normale Ok, e oggi siamo in un vlog Che bello Tipo, noi ne facciamo uno ogni otto mesi Si E io mi dimentico cosa devo dire in otto mesi Il canale ha fatto solo la sua vita Strano Qualche informazioni sono veloce Vi rompiamo le storie un attimo Dopo passiamo i commenti Leggiamo i vostri fantastici commenti Allora Prima di tutto Vedo con molto piacere che mi sta piacendo Minecraft Giusto? Si Anche Sono riuscito a far appassionare anche Anna È incredibile Per Xbox Allora, innanzitutto mi scuso Se queste settimane è uscito solo Minecraft Mi scuso Si scusa anche lui Scusa 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 What the fuck Purtroppo non sempre riusciamo a trovarci Causa scuola Causa partite di basket Causa basket Causa tutto Quindi è difficile ragazzi Difficile Ho dovuto risolvere in questa maniera Però vi promettiamo che nei prossimi giorni Cercheremo di pubblicare video diversi Quindi non sono Magari Minecraft lo mettiamo lì E facciamo qualche video gioco in semi reali di diversi tipi Qualche horror Qualche Happy Will Qualche Happy Will Si va bene E altre cose Magari così Sempre parlando Cioè tu ti sei incastrato La 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 segna Eh sono cavoli i tuoi E poi ti esce fuori What the fuck Già che ci siamo vogliamo farvi vedere queste fantastiche magliette Viva l'Università Viva l'Università Viva l'Università Adesso siamo sponsorizzati per sempre No non è vero No non è vero 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 Però sono fighissime La mia ha su Algesius C'è su Megamed C'è su Megamed C'è su Megamed C'è su Megamed E invece la sua ha su Alex E ci sono dei personaggi di Death Note che è un manga Volevo presentarvi qua con una fanart Ma purtroppo è ancora in corso questa fanart qua Volevo portarvela proprio in mano In mano Perché un amico mi fa Oh ragazzi vi sto facendo una fanart E io Davvero? What? Quindi Mi ho chiesto riesce a farlo Però oggi fa no no E allora ho detto vabbè tranquillo Quando riesce a farlo Oltretutto mi è arrivato anche un commento Mi avete chiesto di fare Megamed Più volte a settimana Visto che siamo I primi d'Italia a fare Ed effettivamente sto dicendo Vi do ragione Solo che è difficile per me Riuscire addirittura a montare Fare quattro episodi Quindi ragazzi Facciamo un patto Io A volte vi porterò Quattro episodi Cioè praticamente due episodi di Megamed In due normali mostri A volte Delle settimane Se non ce la faccio ragazzi Perché purtroppo non ce l'ho fatta Tra studio e tutto il resto In quel caso Gli episodi saranno Lunedì Mercoledì Venerdì E domenica E probabilmente Gli episodi di Megamed Saranno lunedì E venerdì In modo da alternarli sempre Detto questo Passiamo i vostri Fantastici commenti Redolf ci scrive Hashtag Ultimate Gamers Quest Wow Uno che dice quello che ho fatto Che ho fatto Quello che ho detto Wow Uno che non ho fatto E ci scrive Ma Alex non c'è più E l'ho detto ragazzi Dalla Croazia 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 WTF Ehm Io gli ho scritto E' andato a... No scherzo E' solo che Purtroppo Come ho già detto Non avevamo più tempo Per incontrarci Ho dovuto sostituire Con Minecraft Scusate tanto ragazzi Mi dispiace Allora Ma perchè 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 Andrea Antonelli Ci scrive Io avrei chiamato Lasagna Il mondo Effettivamente Non ci ho pensato Però avrei potuto chiamarlo Lasagna Scusate la mia ignoranza Ma Lasagna Il nome Perfetto per un mondo Perfetto per un mondo Di una persona Che ci chiede Di sponsorizzarlo Per 5 secondi Ascoltateci Il suo canale Si chiama Tutorial E mi ha chiesto Se potevo fare pubblicità In un vlog Io ho detto Si va bene Ragazzi Noi pubblicità La facciamo Se avete Se volete Che sponsorizziamo Un attimo Il vostro canale Si può fare Noi non è che diciamo tipo No assolutamente no Odiamo fare queste cose No È sbagliato secondo me Come Tranquillamente Qualcuno può fare pubblicità A noi E noi facciamo pubblicità A qualcun altro Mi sembra A gusti Ah Vale anche per Gozjust Che Mi ha chiesto Anche lui di sponsorizzare In un vlog Però Ragazzi I vlog non li facciamo Una volta di un'altra Quindi Lo sto facendo No Oltretutto ragazzi Siamo a 189 iscritti Siamo vicinissimi ai 200 ragazzi Vi ringraziamo tutti Bravi 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 Siamo vicino Siamo vicino Il minuto 5.29 Allora Si riferisce All'episodio di Nox Timor Io adesso vi metto il minuto 5.25.30 Va bene? Così capite cosa intendo La cosa che mi preoccupa Non so tanto che posso Ma le palle che c'erano per terra Oh 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 Ok Calma Ok Ok Calma 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 Stiamo bene Gio14 Juventus ci scrive Sempre lui Come al solito i migliori Continuate questa serie Si riferisce a Cleverbot Cleverbot la continueremo Infatti probabilmente Adesso finiamo il vlog E la continuiamo Alessandio Costantino Hashtag Ultimate Gamers Allora ragazzi Visto che scrivete un po' Hashtag Ultimate Gamers Quest Hashtag Ultimate Gamers Solo Hashtag Quello che ne avete voglia Vi diciamo cosa scriverla L'avevamo già fatto Però la semplificiamo Perché l'ultima Effettivamente era un po' difficile Io direi di chiamarla Ultimate Quest È una figata Da 1 a 10 Quanto figo 11 E ci si è Qual è il vostro motto Allora io do la mia risposta E alla prossima Ok Il mio motto è Più siamo E più ci divertiamo Secondo me questo è il vostro motto No Prossimo commento Ok Comunque grazie dalla domanda Grazie dalla domanda Allora si dice Very nice Like con la faccina Quello di un po' Poi Be good to see more Con un'altra faccina Siamo conosci anche in America Oggi l'Italia Domani l'America L'Università E' finito Ma quanto Un secolo Due secoli Tre secoli Perché io farei conto Vivo le Quattro secoli Proprio Gennaro E' un gran fiero Mi scrive Con dei fan Dei sandri Super fashion Grazie Era un video vecchissimo Era un video Due part Ok Dove c'era Dove c'era Pino lo schermo Ti ricordi Pino lo schermo Pino lo schermo Quindi sandri Super fashion Si Quindi ragazzi Finiamo con i sandri Super fashion E quindi Se vi piaciuto Lasci un commento Mettete il piaccio Iscrivetevi E se vi abbiamo Ammigliati Ci dispiace Quindi Bello C'è figo Su wizard Quello si che è bello E' lui Acid Obiettivo agganciato Emissione sentenza Emissione sentenza Fendente condanna Che cavolo ha fatto? Ace Missione compiuta